Io vi insegnerò a uccidere Velocemente, accuratamente, efficientemente La parte fisica sarà semplice La parte difficile Sarà imparare a smettere I due uomini sono stati trovati a mezzo miglio da qui Uccisi con un'accetta, come in un rituale Non ha usato un'accetta, ma un coltello Non sappiamo quanti fossero gli assassini Solo uno Cioè un uomo con un coltello ha ucciso due cacciatori Sì, si chiama Aaron Allam, è un sergente Che rapporti ha con Allam? Lo ha destratto, ha destratto a sopravvivere A uccidere La maggior parte della gente che ha ucciso non lo conosceva Lo stato psicotico di Allam è così radicato in lui Che ormai fa parte della sua personalità Ed è impossibile tornare indietro Io l'ho addestrato e io lo fermerò Bravo, sei, sono a casa della sua ragazza Stiamo cercando Aaron Allam Signora Cravis, lui è ancora qui Cosa ha fatto Aaron? Devi andartene, sei in pericolo Perché in pericolo? Verranno qui e bruceranno la casa Sul pavimento, adesso! Se oltrepassa questa linea Farà meglio uccidermi Lascialo Aaron, lascialo andare! Comando, qui numero due Abbiamo un agente a terra Settore rosso, settore rosso Non ci sono, lo vedo! Decida ora quanti cadaveri vuole contare Perché è ciò che accadrà Se questi agenti dichiarano guerra al mio ragazzo Ti ricordi di lui? Non ci sono, lo vedo!